E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo su serve al mondo in un nuovo episodio della prova di fiducia dei miei iscritti Siamo qui con Aurora Bella E oggi ragazzi lei è indispensabile Dovrà cercare di diciamo non far capire che diciamo è una cosa fatta per un video A chi dovrà entrare dentro la base Ora vi faccio vedere ragazzi tutto ciò che abbiamo preparato Non è tanta la cosa, non sono tante le cose Però beh secondo me qui un inventario te lo fai abbastanza bene Ovviamente raga è poca roba È giusto per vedere se uno è leale nei miei confronti oppure no Io raga starò fermo in questa maniera Aurora lì dirà che poi sono andato non lo so in bagno a fare una cosa E vedremo entrare la gente da qua dove sono io praticamente qua sopra Quindi ragazzi che dire iniziamo mettiamo pubblica e vediamo un po' chi entrerà Ovviamente raga mi andrò a mutare perché sennò raga la gente penserà che io sono qui a giocare Quindi mettiamo online mettiamoci in posizione così e andiamo a mutarci Vediamo un po' chi entra Ok ragazzi è entrato il primo Attenzione attenzione Ciao Zitti zitti Tanto loro non mi sentono E voi si mi sentite Eh sono Auri perché Davide è qua ma è andato in bagno Ah Come Ragazzi ti faccio vedere il video come se voi siete dentro la base Quindi raga Bello ci si vede appena Eh se vi posso sapere una cosa Oppure no Eh sì però Cari settimanali Cari settimanali Cari attenti settimanali Oh mi sentite? Ma Oh mi sentite? No ho già capito tutto Qua è una prova Qua è una prova Lo so Che prova? Davide è dominati Sta facendo una prova Se i suoi iscritti truffano Ho già capito tutto Che prova Che prova Ciao YouTube Ciao No non lo sta facendo Non lo sentire Ho già capito tutto Raga ma come fa? Voglio essere cariato La gente vuole essere cariata Non vuole capire che sta facendo una prova Sentiamo sentiamo Wow Ma sta facendo una YouTube? Si sta facendo un video te lo dico io Sta solo facendo una prova Se i suoi iscritti sono onesti No no Friando si è un buono Veramente È troppo Però lo so Ho già capito tutto E' un'altra cosa Ma guarda che se vengono qua Ti truffano veramente Eh? Se vengono qua Ti truffano seriamente Sì ma io non lo truffo Perché come si dice È uno dei miei YouTuber preferiti E come si chiama? Si chiama Da demoni Posso vederla mazzamone? Posso vederla? Beh Io ne devi ridare Comunque è normale Te lo dico io Posso vederla mazzamone 142 La voglio vedere? Te la voglio truffare ti giuro Voglio vedere Non lo so Sì lo so ma io non truffo Tanto sono onesto Io se fosse un truffatore L'avrei truffato Basta che Boh regà Boh regà Riveliamoci Non è da truffare bro Ma dopo lui si dà Uè Che facevate oh? Io non la stavo guardando Oh se tre passi Ah ma dovevi chiudere Eh non so ma Non so come si fa Cioè Davide ma siamo sicuri Che non stavi facendo una prova Se i tuoi scritti truffavano Sì sì è una prova Io avevo già capito Io avevo già capito tutto Infatti Prima Ho detto ciao youtube Ciao youtube Ciao Non lo so Ma credo che c'è lì Ci sei stato sempre tu Sì è sempre lui Sempre lì Lui è a capa di raggio a testa Che siete stati bravi ragazzi Ottiva Grazie Niente Faccio entrare i prossimi Comunque sono i miei youtuber preferiti Ragazzi questi due scritti erano onesti Andiamo a vedere gli ultimi due Chissà se saranno onesti Oppure no Error intanto bravissimo Intanto bisogna dire la verità Vai Mettiamo pubbliche Vediamo chi andrà ad entrare adesso A few moments later Attenzione raga Dark e Mattia Davide Ecco ecco raga Oh fra Sono Auri Davide andate in bambini Dovrebbe arrivare Ma state facendo una live No no Era un po' qui Posso giocare? Ho scaricato salvo al mondo Da due giorni Quindi non so ancora Come si gioca Perché sono un fan Di Di Davide Eh va bene Quando arriva Glielo chiediamo Guardalo dark Guardalo Guarda dark Guarda dark Guarda dark raga Dark non truffa Già lo so raga Già so che dark Non truffa Guarda Guarda mi stai cercando di chiudere Assurdo 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 raga Bisogna vedere se truffa l'altro ragazzo Però eh L'altro ragazzo Prendiamo Perché ha chiesto subito delle live Quindi Magari E così interessavo Tantissimi materiali E potrebbe truffare Raga Andiamo un po' a vedere Sto Sto fuori Così non prendo le armi Auri Oh dimmi Io sto fuori Così non prendo Quelle armi Che ci sono lì Ok Ah va bene Ma se vuoi entra Tanto Davide Tra poco Dovrebbe arrivare Andato in bagno Ma Cioè mi vanno Se prendo le armi Eh non lo so Io non so niente Cioè Ho salvo il mondo da ieri Non so Sta qui Se vuoi ti posso regalare un'arma No no tranquillo Tranquillo Grazie Comunque non penso che ti bagni Sì ma non le prendo Perché ho già Perché ho già lo zaino full Anche se non ce l'ho full Vabbè però non le prendo Perché sono il suo fan E mi sta molto simpatico Dunque non voglio Che si arrabbia con me Se le prendo Raga ma quanto è carino Quanto è carino Questo ragazzo Torniamo raga Torniamo Bravo fra Che non hai preso niente Che non avete preso niente Dark già lo sapeva Allora per il premio Regà Visto che non ti truffavo niente Vi do qualche cosina Dai vieni Mattia Ma io volevo venire Perché mi stavi simpatico E ero un tuo fan Grazie Lo so lo so Grazie mille Er pull Vabbè Se lo vieni Mattia Regà Mattia E Dark Non truffano Incredibile Ho solamente iscritti Onesti Intenzione E niente ragazzi Vorrei dire Tutta questa roba piccola Riprenderemo noi Per ora raga Come il primo episodio Nessuno Ha truffato Abbiamo fatto entrare 4 persone Nessuno ha truffato Se volete Un altro episodio Della prova di fiducia Dei miei iscritti Ragazzi Vi ricordo di lasciare Un like E un'iscrizione Al canale Se siete nuovi Proviamo a raggiungere Ragazzi 100 like Tondi Tondi Per un prossimo episodio E chi lo sa ragazzi Magari toccherà Proprio a voi A essere sottoposti Alla prova di fiducia Quindi mi raccomando Mandatemi la richiesta Che le accetto Sempre a tutte E come ho già detto Vi raccomando Un bel piacere in su Detto questo ragazzi Ci si becca In un prossimo video Da Dede Dome Aurora È tutto Bella Ciao ragazzi Bacione Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti.